ok ciao amici adesso procederemo al autoboxing allora questo è il solio solio h1000 pagato su amazon 40 dollari questo bisogna stare bene quando si compra questo solio che vi diano anche l'adattatore usb per l'iphone questo ce l'ha già incluso va bene per pdf 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 un box manuale di istruzione utile scritto nella lingua universale dei numeri e dei disegni e garanzie allora il bottone qui serve per vedere la batteria uno due tre quattro quattro vuol dire che è carica all'80% questo si tira si tira così viene fuori così poi nel nostro scatolino ci abbiamo cavetto per caricare il dispositivo rame tramite usb oppure dal sole poi cavetto mini usb cavetto usb gigante cavetto per adattatori per cellulari piccoli facciamo subito una prova qui abbiamo un iphone che di ci Ah Si funziona perchè ci ho attaccato Che cosa ho attaccato E quindi Adesso lo disconnetto Si ritornato da un valo Lo riconnetto Poi Adesso Un po' così Un po' qui E qui adesso si sta caricando Poi vediamo le istruzioni Allora si può caricare per computer Si può Caricarlo 6 ore Red, green I batterie indicatore C'è i dispositivi Use one tip at a time One Off iPod Pod I use the tip female Quando va col sole viene rosso Poi dopo dieci ore viene verde Nuvoloso Continuiamo. Where is your phone? Where is my phone? Do you need it? Yes, everybody wants to see it. It's broken. It certainly is. We have to turn on. Ok, it works. It works, it just has sharp edges. But we have this company that it will replace for free. Yes. Not for free. It doesn't really make any difference what they charge. If it's cheaper than buying a new phone, it doesn't make any difference, right? Yes. As I see it, I'm saving four or five hundred dollars. Yes. Say everybody a lot. Hello everybody. Hello, this is Mary Fisher from Mary Fisher Design. Did you guys ever get in your order of the iPhone crystals? Yes. Mine is a 3G. Tomorrow, I had heard that you thought that you would get them in today. Ok, then I'll call back tomorrow. Thank you. Tomorrow. Where did you learn to do faces? I learned it from my friend Mirko. Oh. Oh.